E siamo invece pronti già con la prima ospite, quindi è rimandato solo di pochi minuti il nostro appuntamento col Museo Diocesano di Milano. A te Tony. Sì, 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 un bel video che non vediamo l'ora di vedere, ma come dicevi tu è già pronta e in collegamento con noi la prima ospite di oggi che è Terry Biason, la vedete alle nostre spalle. Ciao Terry, buongiorno e bentrovata. Ciao, grazie a voi per l'invito. Buongiorno. Terry è l'ideatrice di un progetto molto bello, molto interessante che riguarda i malati di Alzheimer. Il progetto si chiama Una fragile chiave di carta e ti lascerei l'onere e l'onore di parlarci di questo progetto così interessante. Allora, io lavoro per i servizi animazione di una piccolissima casa di riposo sulle montagne del Trentino. Noi siamo famosi per fare dei progetti un po' strani perché oltre a fare il nostro lavoro con gli anziani, ogni anno cerchiamo di fare qualche cosa per aiutare la ricerca oppure per aiutare delle persone che sono nel bisogno. Qualche anno fa abbiamo creato un DVD con delle persone famose che hanno letto le nostre storie e questo è andato tutto a favore di una casa di riposo della Lombardia nel periodo del Covid che era stata colpita gravemente. Quest'anno abbiamo pensato all'Alzheimer e il nostro progetto è sulla diagnosi precoce dell'Alzheimer. Purtroppo è una malattia che è in un aumento in modo esponenziale e volevamo fare qualche cosa. Allora, abbiamo pensato di fare un corto dove viene raccontata la storia di un malato perché l'importante è far vedere alle persone, far riconoscere quali sono i sintomi di questa malattia. A volte si pensa allo stress, alla fatica e a tutte queste cose, invece i problemi sono altri. Con delle persone conosciute della nostra regione come il Matteo Lunelli delle cantine Ferrari che è una grandissima industria che fa vino. Un giornalista, il direttore dei nostri quotidiani regionali, il dottor Faustini, con Eleonora Mezzanotte che è stata a Miss Trentino e lavora per la RAI come annunciatrice. Gianluigi Nuzzi di Rete 4 che è un nostro amico che ci aiuta sempre per fare questi progetti e gli sportivi della nostra regione abbiamo inventato una storia tratta dalla vita di una persona che veramente è malata di Alzheimer e l'abbiamo messa in scena. Vi faccio i nostri migliori complimenti anche perché solo qualche istante fa durante le notizie sentivamo purtroppo una notizia tante volte ricorrente nei centri che si dedicano agli anziani. Cioè quelle notizie che appunto ci parlano di maltrattamenti per cui sapere che ci sono invece realtà virtuose come la vostra ci riempie il cuore di gioia per cui i nostri complimenti sono davvero sinceri. Maria Pia. Sì volevo chiedere a Terry veramente con ammirazione ma anche con spirito da giornalista come mi tocca come è nata questa idea di dedicarsi a un ambito così complicato così difficile non scontato? Intanto ecco ti prego ti prego di riattivare ti prego di riattivare la telecamera perché adesso ci sei. Adesso ci vedo. Non so se ha sentito la domanda altrimenti la ripeto. Sì. No no mi dica mi dica. E dicevo quale è stata la motivazione profonda per un'azione e una decisione così impegnativa? Perché purtroppo nelle case di riposo io parlo del nostro territorio ma credo che sia una cosa veramente che tocca tutta tutta la nazione. Arrivano delle persone con problemi di Alzheimer persone malate di demenza o di Alzheimer e le strutture non sono preparate ad accogliere queste persone che richiedono veramente un grandissimo lavoro perché hanno bisogno veramente di tante tante cose. E prevenire noi pensiamo noi crediamo sia la cosa migliore anche perché colpisce sempre di più persone molto giovani. Voi tra l'altro a Trento in particolare avete sempre l'alta classifica sulla qualità della vita. Non sarà un po' merito anche di persone come lei? No non credo. Siamo fortunati che riusciamo a far sfruttare bene la nostra autonomia. Abbiamo dei servizi che sono validissimi. Nel nostro video abbiamo avuto l'aiuto e si è prestato anche a fare l'attore il presidente del centro Alzheimer Trento dove le persone possono e devono rivolgersi quando vedono i primi sintomi, i primi segni. Nel nostro video appunto che descrive e racconta la storia di un uomo che ha questi problemi. La moglie logicamente non se ne accorge perché dà colpa allo stress, alla fatica, al lavoro, a tutte le attività che fa questa persona. Mentre la figlia torna a casa dai genitori e si accorge che il padre insomma non è più come prima. Allora chiede alla madre e la madre nega perché solitamente le persone più vicine ai malati cercano sempre di trovare non una scusa ma di pensare che sia qualcos'altro perché non si pensa mai il peggio. Va nell'ufficio dove lavora il padre, chiede alle persone che vede tutti i giorni e anche loro hanno notato delle piccole cose perché non sono grandi cose. Ad esempio un collega di lavoro nota che il padre che era sempre puntiglioso e notava tutto su un piccolo notice, le password, non le ricorda più e non le nota più. Quando suona il telefono si agita in modo esagerato. L'altro collega di lavoro nota, ha notato che parcheggiano sempre da 20 anni la macchina vicino e a volte lo trova in macchina che non sa che cosa fare. Lo vede in macchina che guarda il volante e non capisce dove andare. E voi siete riusciti a condensare tutto questo in pochi minuti, in questo cortometraggio che è in fase di ultimazione e che noi ci auguriamo di poter ricevere e condividere con il nostro pubblico non appena sarà pronto. Certo, certamente. Abbiamo già un sacco di adesioni, di parecchie televisioni. Devo dire, e lo dico veramente con il cuore, pieno cuore, che siamo molto felici perché parecchie televisioni del meridione ci hanno contattato, noi abbiamo scritto un po' a tutti, e veramente sono felice che voi sentiate questo problema. E vi faccio i complimenti. Grazie. La nostra, tra l'altro, è un emittente nazionale, viene seguita dal nord al sud Italia, isole comprese e molte volte anche da chi è oltre Alpe, Germania, Francia, Svizzera, Austria. Per cui saremo felici di dare risonanza a questa buona pratica, a questo bellissimo progetto. E quindi, Terry, ti salutiamo, ma è un arrivederci quindi a questo punto. Sì, decisamente. Comunque tanti auguri intanto per tutto. Allora, da parte mia, da parte della PSP suor Agnese di Castello Tesino, mandiamo a voi, al vostro pubblico, auguri di buone feste a tutti quanti, soprattutto alle persone che sono nelle residenti sanitarie, negli ospedali, agli anziani che sono quelli del nostro ambito. Tanti auguri di buone feste a tutti quanti voi, e penso che fra una settimana o due vi farò avere il video. Grazie mille. Allora, ci risentiamo presto. Buon proseguimento di giornata a Terry Biason, che ringraziamo per il suo impegno verso i più fragili con questo progetto, una fragile chiave di carta.